Le stelle della società ginnastica Raffaello Motto brillano anche in Norvegia. La società Via Regina ha preso parte infatti alla quarta edizione dell'European Gym for Life, contest continentale della ginnastica per tutti andato in scena a bodo. Grazie a una straordinaria performance alla squadra capitanata dei tecnici Gabriele Mattei, anche capo delegazione Azzurro Laura Pendibene e Leonardo Mattei, ha ottenuto un'eccellente medaglia d'argento assegnata da un colpo di valutatori esperti in coreografia. Un risultato di rilievo considerati i 61 gruppi in gara provenienti da ben 18 paesi. La Motto, una delle due società che hanno rappresentato l'Italia a questa manifestazione assieme alla ritmica Carmagnola di Torino, ha proposto uno spettacolo incentrato sul mito di Ulisse. La preparazione ha richiesto un anno di lavoro, infatti cominciata lo scorso agosto dopo l'entusiasmante esperienza alla Gymstrada Mondiale di Amsterdam. Ad agosto il gruppo si prenderà qualche giorno di riposo per poi incominciare gli allenamenti in vista dei prossimi obiettivi. Il World Gym for Life in programma a Lisbona nel luglio 2025, la nuova edizione dell'European Gym for Life che si iterà nel 2026 a Pistoia, organizzata dalla Feder Ginnastica. Un ringraziamento da parte della Motto va alla scuola Galileo Artiglia alla provincia di Lucca per l'utilizzo della palestra dell'istituto.